Abbiamo predisposto un video che sarà mandato in onda fra poco, in cui ci saranno le foto e le immagini sia del memorial sia di questi ragazzi che ci hanno lasciato, vuoi per incidenziali, vuoi per manassie e varie. Allora, noi abbiamo predisposto delle categorie di pregio, prima di premiare la prima, la seconda, la terza e la quarta classificata, sono categorie così per ridere un po', per sorridere, perché alla fine lo sport ci ha dato la possibilità di ricordare questi bravi ragazzi, però ci fa anche ridere. Allora, per la categoria eleganza, per la categoria eleganza, allora invitiamo i familiari Cannistries...